Ciao a tutti e a tutte, io sono Emi e questo è quello il mio personaggio, la mia unica lol, soprattutto, e volevo farvi un saluto speciale a Noemi Toys, che è la mitogina, e volevo dire, se non la seguite mi raccomando, seguite la pesca e lei è fantastica. Ho fatto solo 3 video, dovrò 4, se non mi ricordo, però sono sicura che lo raggiungeremo insieme ai fantastici traguardi, e scusate se in questi giorni non ho fatto tanti video, ma ero in accesso, potevo fare una prossima video, tipo G.C.P.M. non sapeva mai cosa cancellare, cancellavo e rimettevo perciò, scusate, scusate. Intanto vi volevo mostrare anche questa lampa, scusate, 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 scusate. A Situ, 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 a Situ. A Situ, a Situ, a Situ, a Situ, a Situ, a Situ. E niente, questa qua è un video un pochino a cazzo. e domani uscirà un nuovo video no comunque vi dico già che vi usciranno di pomeriggio perché già da domani io inizio la scuola no no